A Cornigliano dobbiamo continuare la riqualificazione a cui, insieme al municipio, ho contribuito come assessore ai lavori pubblici. Inizieremo presto i lavori di riqualificazione di via Cornigliano. Si stanno stanziando i fondi per l'ex mercato di via Bertolotti, che diventerà un centro polivalente al servizio del quartiere. Deve essere riqualificata la zona di Villa Bombrini e l'area degli ex gasometri sarà bonificata per essere al servizio della cittadinanza. A Coronata la cittadinanza sarà protagonista per far diventare l'area del San Raffaele una opportunità. Sta proseguendo inoltre la riqualificazione di Sestri, che ho voluto fortemente come assessore. Oltre alle piazze già rinnovate, presto partiranno i lavori per il Viale Canembo. L'identità di Sestri e Colligliano ha le sue radici nel lavoro. Difenderemo l'insediamento industriale, come abbiamo sempre fatto. Ilva, Fincantiere e Noncio. Ora parte il progetto Erzelli, nuovo lavoro nel settore industriale ad alta tecnologia per Sestri e Colligliano e tutta Genova. Il cuore di Genova per noi in ogni quartiere. Sono il candidato a sindaco per Genova per il centro-sinistra. Se anche tu ami la nostra città, il 25 giugno vota Gianni Crivelli.